Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo terzo episodio della rinascita di Balotelli signori siamo qui, siamo carichi e siamo sul mio canale sono maullo941 e prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggiamenti e per il supporto che lasciate alla serie e al canale signori detto questo noi siamo dove siamo fermati l'altro giorno io forse erano rimasti sì, avevo fatto gli allenamenti ci siamo delle attività nuove andiamo a vedere perché ho visto pure che comunque stiamo guadagnando dei soldi leggi il libro a una leggenda del club leggi il libro a una leggenda del club, ma che cazzo lo vuol dire? grande prova fatti complimenti, elogi i tuoi compagni e continui a impegnarti dai, facciamo così, è grande prova signori la possiamo fare? sì, fatti complimenti elogi i tuoi compagni, elogiamo i compagni signori è giusto elogiare i tuoi compagni di squadra è una cosa giusta che va fatta perché il calcio è uno sport di squadra poi, andiamo in negozio andiamo in negozio e che possiamo fare? acquistiamo punti trascinatore dai, acquistiamo un box per una tribuna VIP così, a caso a caso signori, le cose le facciamo a caso e acquistiamo anche sì, sta a prendere un po' di soldi però non fa nulla che altro possiamo fare? ordino un vestito firmato 25.000 euro di vestito firmato signori, ce lo vedo Balotelli che si fa un vestito di 25.000 euro firmato ma da chi? non si sa così, un vestito firmato a caso ma noi ce l'abbiamo e andiamo anche a investire siamo degli investitori in corso, due giorni al termine ok app per il cellulare microfinanza abbiamo 185.000 euro no, facciamo l'app per il cellulare rimaniamo bassi signori rimaniamo bassi 30 giorni alla conclusione dell'app per il cellulare vabbè vediamo cosa succederà mi piace questa cosa avanziamo avanziamo prossima partita la terza di campionato signori non so contro chi giochiamo perché del campionato turco a parte qualche squadra non conosco minimamente chi sono i nostri avversari ma noi non ci interessa perché devono conoscere loro noi signori giochiamo contro il Konya Sport vabbè e noi giochiamo contro il Konya Sport che c'è frega scendiamo in campo giochiamo con Balotelli e vinciamo anche questa signori decisi non ci frega niente non ce ne frega niente non mi interessa signori scendiamo e Balotelli vincerà qualsiasi cosa forse non si sa però ci proviamo ricordiamo sempre che l'obiettivo di questa rinascita di Balotelli è riportare Balotelli in serie A quindi potremmo anche volare una serie B signori ma l'obiettivo è tornare in serie A e soprattutto è tornare a giocare una competizione europea attenzione questo è l'obiettivo 0-0 27 controvide per la Dana Balotelli da solo in simbola sulla propria area un cost to cost signori prende la palla fa fuori l'avversario il difensore centrale si è involato il Balotelli il balo il balo il balo a limite dell'aria Balotelli si è addormentato volevo passare davanti il difensore e segnare e non sono riusciti ma abbiamo un'altra occasione al 29 signori ancora cost to cost dal nostro metà al campo siamo partiti con un lancio in profondità Balotelli la metà a terra perfetta simbola da solo davanti il portiere Balotelli 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 signori mannaggia della misera secondo tempo al 73 contropiede che cazzo di contropiede che hanno preso palla loro ma che cazzo ma stanno giocando loro ma questa non l'ho capita mi sfugge qualcosa è la prima volta che stanno a fare azione a loro scusatemi scusatemi ok non so perché ma va bene azione a loro ah no stanno a fare azioni loro ma porca miseria pensavo fossero solo azioni nostre no stanno a porca miseria fermateli 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 Balotelli si fa mezzo campo e dai uscita ok palla nostra ancora Balotelli 84esimo contropiede cost to cost dalla nostra metà al campo ripartiamo per andare avanti l'arbitro è femmina in tutto questo attenzione signorina no 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 me la dovete alci subito ma mannaggia a te mannaggia ai 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 mi ha fatto fallo albito mi ha fatto fallo Balotelli decide di andare sulla fascia si allarga si allarga il balo il balo il balo il balo il balo Balotelli Balotelli riesce a rientrare vede il compagno al centro dell'aria e il tiro il doppio tiro gol non ci è capito niente ma va bene così 1 a 0 della dana 1 a 0 della dana ha segnato Sari e Balotelli viene anche a festeggiare sta picchiando qualcuno Balotelli ma non ci interessa finisce 1 a 0 1 a 0 per la dana 3 su 3 signori 3 su 3 3 vittorie su 3 il pubblico deve essere fatto non ci crede nemmeno il pubblico che abbiamo vinto 3 partite su 3 però ne abbiamo vinto abbiamo sbagliato due grandi occasioni sotto porta con Balotelli però poi siamo entrati nel gol che ha fatto nell'azione del gol ci siamo entrati ci siamo entrati e va bene così va bene così va bene così saliamo ancora saliamo appunti personalità 18.813 a livello 2 va bene meno 5 valutazione tecnica non ho raggiunto 2 obiettivi su 3 va bene neanche so quali sono i miei obiettivi però dettagli aspetta devo rivederli all'inizio della partita quali sono i miei obiettivi ma giocando così non abbiamo che fare giocando giocando solo le le i momenti clou è molto difficile riuscire a fare gli obiettivi però ci possiamo andare a allenare alleniamoci dai è così e Vincenzino Montello ci rimette i titolari grande Vincenzino bello così andiamoci a fare l'altra partita abbiamo delle attività nuove ma le vedremo dopo andiamoci a giocare la quarta partita di campionato quarta partita di campionato ce la possiamo fare ce la possiamo fare gioca partita siamo fuori casa contro l'Istambul l'Istambul Sport l'Istambul Sport che se non sbaglio ha solamente 3 punti in campionato noi siamo a punteggio pieno 3 su 3 signori 3 punti su 3 va bene così stiamo carichi a pallettoni Super Mario la rinascita di Super Mario signori procede bene se non sbaglio abbiamo 3 gol finora e 2 assist se non sbaglio se non ricordo male vai così vai così altra partitona occasione di cross per la Dana dai al 35esimo si impola sulla fascia il giocatore che non so chi sia perché noi impersoniamo sempre Ballotelli quindi non mi spondono i nomi dei giocatori sto qua sto qua sto qua sto qua sto qua zio bellissima l'accelerazione non ce la faccio non ce la faccio più Ballotelli mannaggia me l'ha data troppo va bene 37esimo contropiede Ballotelli lancio per lui attenzione da solo da solo attenzione Ballotelli fa fuori il difensore centrale Ballotelli 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 entra in aria Ballotelli Ballotelli Super Mario Ballotelli Ballotelli damo se signori 1-0 della Dana è in gol Ballotelli attenzione occasione per loro noi stiamo a raccogliere verdure dall'altro lato del campo non possiamo aiutare i nostri compagni cerchiamo un ritorno in difesa velocissimo però attenzione perché lì Capellibelli c'è riuscito Capellibelli ha fermato l'azione attenzione Adana Sport in attacco siamo nel secondo tempo al cinquantasettesimo pallone lungo attenzione buono lì il movimento sul cross attenzione Ballotelli si fa vedere al centro dell'aria Ballotelli vedi il movimento in profondità buono lo zin dammela di nuovo dammela di nuovo zin Ballotelli non c'è me la sentivo lo potevo far tirare invece ho voluto per forza il passaggio ho voluto per forza l'1-2 e ho fatto la caffietà terribile attenzione Ballotelli si fa trovare ancora perfetto al limite dell'aria Ballotelli il compagno non parte il compagno parte dopo entra nell'assist entra con l'assist nell'azione del 2-0 al sessantatreesimo signori tanta roba posso dire tanta roba attenzione rigore i rigori si tirano centrali attenzione 3-2-1 siamo pronti attenzione momento di suspense Ballotelli carica il portiere il portiere rimane fermo finisce va bene così 2-0 Ballotelli e c'è ancora e c'è ancora il balo e il balo c'è ancora e il balo c'è ancora bello così bello come il sole Ballotelli Ballotelli bello come il sole mi piace mi piace andiamo avanti ci giochiamo la terza anche oggi signori oggi ci giochiamo la terza dai così diamo una una sterzata veloce abbiamo fatto 3 obiettivi su 3 che non sono quali siano questi obiettivi però non ci interessa basta che portiamo risultati a casa signori Ballotelli ha messo la testa a posto a 31 anni finalmente Ballotelli ha deciso di mettere la testa a posto e sta portando a casa i risultati finalmente diamo un segno di ok e questi li abbiamo fatti pure andiamo avanti andiamo avanti damo se damo se attività andiamo a vedere se cazzo l'altro attività dai cosa possiamo fare cosa c'è di nuovo 3 nuove grande prova fai complimenti elogi compagni un nuovo giocatore aiuta il nero acquisto e ambientarsi organizza la festa e benvenuto per il nero acquisto scade fra 8 giorni dai facciamo il benvenuto lo possiamo fare livello 1 organizza la festa allenati insieme a fagioli per migliorare l'intesa in campo no organizziamo la festa damo se così damo dai dai abbiamo organizzato la festa siamo tutti contenti ok poi cos'altro possiamo fare decisioni c'era l'altro che questo di qua va bene e poi investimenti investimenti abbiamo 180.000 euro microfinanza investiamo 100 ricavi stimati 115 ritorno all'investimento fondi investiti 50 ritorno all'investimento 50 famo questo dai ah così subito me l'ha fatto fare senza domenica domandarmi cos'è l'altro investi nel terzo delle sportive 200.000 euro chi ce li ha 60 giorni va bene abbiamo due investimenti fatti due investimenti fatti e va bene così che ce frega che ci importa tanto sui soldi del balutelli questi soldi nostri che ce frega signori va bene così va bene così andiamo alla terza partita per oggi se riesco vediamo di riuscire a far Giorgini è passato al Milan certo perché il calcio mercato è aperto in questo momento il calcio mercato è aperto noi già siamo alla quarta partita di campionato se non sbaglio contro il Basaxair Basaxair va bene vediamo chi è il Basaxair e ci proviamo anche con loro ci proviamo anche con loro dai andiamo in campo carichi a pallettoni siamo a casa loro calcio d'angolo ok calcio d'angolo siamo al centro dell'area la passare a me non si sta forse si forse no parte il compagno di squadra vede movimento la talla di testa bel calcio d'angolo noi finiamo in rete secondo calcio d'angolo al 33esimo ancora attenzione il calcio d'angolo sta per essere battuto parte il traversone palla che non è per Balotelli andiamo a tentare qualcosa nella respinta attenzione Balotelli mannaggia abbiamo riuscito a tenere la palla l'abbiamo persa noi perdiamo una 0 eh che cazzo la sti cavolo di calcio d'angolo terzo calcio d'angolo facciamo una cosa vai 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 fattele dare fattele dare fattele dare si fa dare il pallone attenzione che cosa inventerà che cosa inventerà il palo che cosa inventerà Balotelli super Mario Balotelli va bene così 1 a 1 la danza la danza terribile si sta a stoccare l'osso del collo però va bene 1 a 1 79esimo contropiede per la Dana Sport attenzione contropiede velocissimo contropiede ma che cazzo la di contropiede signori ma di che stiamo a parlare ma questo è un contropiede finisce in parità una gara ma ci sono rimasto malissimo dai ci sono rimasto malissimo si ferma la striscia di vittoria della Dana Sport e pareggio 1 a 1 un punticino portato a casa per la Dana Sport che comunque fa ancora un risultato positivo signori noi prendiamo un 8.2 che non ci dispiace un 8.2 non ci dispiace andiamo a vedere la classifica prima di chiudere questo episodio andiamo a vedere la classifica prima di chiudere quest'altro episodio noi siamo stati migliori in campo ci hanno dato il premietto che cosa carina ci hanno dato la coppa del nonno allora vediamo un attimino la classifica fino a questo momento del campionato siamo primi insieme al Besiktas a 13 punti signori segue all'Antagli Sport a 12 il Gara da Sarai a 10 e il Besakir a 7 signori mi sembra un buon un buon un buon cammino fino a questo momento detto questo signori io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per il like per i commenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo aggiornamento bella raga ciao